...dentro per Immobile, Crosso lo mette giù... ...sì, calcio di rigore per la Lazio... ...va Immobile, 1-0 Lazio, è già avanti dopo 7 minuti con il gol di Ciro Immobile... ...il numero 12 in questo campionato, il numero 67 in Serie A Team Immobile... ...è il valore aggiunto di una squadra A che non vuole più fermarsi...